Perché i cattolici pregano i santi? Quando si visita una chiesa cattolica, notiamo che di solito vi sono alcune statue di santi. Esse impediscono forse di vedere Gesù? No, i santi non ostruiscono la nostra vista. Essi infatti sono rivolti verso Gesù. Infatti nei santi vediamo quello che la grazia di Dio è in grado di compiere nella vita di un semplice essere umano. I santi sono la sua creazione. Pregare i santi non toglie nulla a Dio. Facciamo degli esempi. Quando lodo un dipinto, sto lodando l'artista che l'ha dipinto. Oppure, quando lodo un buon pasto, sto lodando il cuoco. Quindi, pregare i santi non fa venire meno la lode che è dovuta a Dio solo. Anzi, noi lodiamo nei santi la grandezza di Dio e la potenza della sua grazia. In qualunque modo i santi siano santi, lo sono attraverso Dio. I santi dunque non sono ostacoli, bensì ci aiutano lungo la strada per giungere a Dio. In primo luogo perché ci danno un esempio concreto di come seguire Gesù e in secondo luogo perché intercedono per noi al trono di Dio. Attraverso l'intercessione accade ciò. Gesù è ovviamente l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Ma questo non esclude l'intercessione dei santi. Dopotutto, che cosa fece Gesù sulla terra? Ha permesso alle persone di condividere la sua opera. Egli affidò alla gente il suo messaggio. Egli ci fa partecipi della sua opera di salvezza. Dio non è gretto. Al contrario, Egli, che non ha bisogno dell'uomo, decide di condividere con l'umanità la sua opera. E perché questa condivisione dell'opera si conclude con la morte? I santi sono ancora vivi in Dio, giusto? Dopotutto, è un Dio dei vivi, non dei morti. I glorificati e coloro che stanno con Dio sono parte della Chiesa. Siamo collegati ad essi nel corpo mistico. Sono nostri fratelli presso il trono di Dio. E se le Sacre Scritture ci invitano a pregare l'uno per l'altro, qui sulla terra, tanto più questo principio si applica a coloro che ci hanno preceduto. Quindi ha davvero senso pregare i santi e chiedere la loro intercessione. Tra l'altro, la venerazione dei santi, e soprattutto la venerazione della Vergine Maria, non è una cosa cattolica. La troviamo in tutte le professioni cristiane antiche che risalgono agli apostoli. La troviamo non solo nell'Occidente cattolico, ma anche nelle regioni della Chiesa ortodossa e in Oriente, presso i greci, i russi, gli armeni, i copti, gli etiopi, i caldei, gli indiani o i siriani. La venerazione dei santi, dunque, non è una cosa cattolica. È una cosa cristiana fin dagli inizi dei tempi. Grazie.